Una vittoria fondamentale questa di oggi? Sì, per questo nuovo campionato che succede per noi, si apre per noi dopo una bella vittoria. Abbiamo fatto oggi una bella partita, tutti i giocatori con questa voglia di vincere, con tanto sangue in campo, dobbiamo sempre fare così adesso. Il nuovo campionato si apre anche per te? Durante la finestra invernale del mercato, sei pronto a partire? Sì, quando è arrivato lui ho sempre in testa di giocare, sempre a giocare. Il giocatore è così, se è contento di stare in panchina, io penso che non serve. Io ero sempre, no, arrabbiato, però non ero tanto contento di stare in panchina, per questo mi dava un po' di giocare, una motivazione più grande. Adesso gioco di più e devo meritare di stare a giocare con una maliettana in campo. Sì, la curva che è stata vicina, gli ha dato quella marcia di più oggi. Sì, io penso che il tifoso è importantissimo per noi. Tutta la tifoseria che quando gioca insieme con noi siamo più forti di tutti. Deve essere sempre così. Lo so che è un diritto di loro di stare arrabbiato con noi, però adesso si cambia tutto e penso che dobbiamo giocare sempre così insieme a loro. Andrea Zolle aveva detto che vi mancava una certa consapevolezza nelle proprie forze. Partite come queste possono aiutarvi a darvi sicurezza? Come no, è importantissimo. La Juventus è la mia prima squadra d'Italia più forte. Oggi abbiamo giocato lo stesso livello. Abbiamo meritato la vittoria e adesso dobbiamo capire sempre. Quando avreste fatto lo scatto a Natale? Avete parlato? 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 Avete parlato sempre di più. Non è molto bello perché non si può succedere in una sfida così. Non che non abbiamo giocato bene, ma abbiamo meritato la vittoria. La vittoria deve essere sempre di più, come oggi. Oggi abbiamo fatto oggi più forte o più cativo devemmo vittoria. Penso che dovremmo sempre andare cercando.